Qualche volta abbiamo avuto dei grandi problemi perché non è facile con il sistema politico italiano realizzare dei grandi progetti. Noi ci siamo riusciti. La parola è cambiamento, presuppone che da una situazione che si conosce si passa a una situazione diversa. È una parola che è stata usata molto, bisogna chiedersi se è stata abusata. La politica oggi soffre di esclusioni, di chiusure, di confini invalicabili. La lezione di Moro è che la politica invece è dialogo, inclusione, ascolto e rispetto dell'avversario. Non potevamo salvarlo, ma tocca a noi invece continuare, difendere, rilanciare il cammino di una democrazia adulta che non ha paura, che non teme di perdere le elezioni per un atomo di verità. Allora, siamo adesso in uno dei momenti più importanti della nostra Summer School e vi chiedo di accogliere con un grandissimo applauso Mark Lazar. Possiamo sederci, è un grande privilegio avere Mark Lazar qui, lo conoscete tutti, quindi io non devo fare grandi presentazioni. Mark Lazar è uno dei più grandi storici, politologhi, conoscitori dell'Italia, conoscitori del rapporto tra l'Italia e la Francia. Mark Lazar insegna nella migliore università del mondo, che è Sciences Po. Forse è un po' esagerato. Va bene, seconda, via. Mark Lazar scrive, scrive abbastanza periodicamente su Repubblica, leggiamo le sue analisi sulla situazione politica europea, sulla situazione italiana. Mark Lazar è diventato adesso anche l'animatore di un'importante attività, attività culturale, attività che cerca di rendere più vicini Italia e Francia, la creazione dei dialoghi italo-francesi, che Sciences Po da una parte, la LUIS dall'altra hanno costruito. Il primo evento è stato quest'anno a Roma, il successivo evento sarà l'anno prossimo a Parigi. e Mark Lazar è uno scrittore, molto della sua attività di ricerca è un'attività di ricerca che poi trova in molti libri, molti libri pubblicati in tante lingue, ovviamente a partire dalla Francia, molti di questi poi tradotti in Italia, molti di questi dedicati all'Italia, o molti di questi che hanno visto la nascita a partire da ricerche e studi fatti in Italia. Ed è proprio questa l'occasione per la quale gli abbiamo chiesto, gli ho chiesto il grande piacere di venire qui, tra l'altro come sapete l'aeroporto di Bologna è proprio questo weekend, per rendere le cose un po' più facili. A noi hanno chiuso la pista dell'aeroporto di Bologna, quindi da Parigi ovviamente è tutto più complicato, è stato un ulteriore sacrificio che Mark ha fatto, ma è un segno di grande amicizia nei nostri confronti, perché come alcuni di voi che non sono i partecipanti per la prima volta all'anno che comincia adesso, ma si ricorderanno, Mark Lazar è già venuto a Roma, fece una lezione alla Treccani, e fu una lezione alla quale partecipò anche il Presidente Napolitano quella volta, e fu una lezione per gli studenti degli anni scorsi, che fu molto bella, molto importante, trovate la trascrizione e poi gli atti di quella lezione. Oggi lo abbiamo a disposizione, oggi pomeriggio lo sfrutteremo intensamente, avrete la possibilità di chiedergli questa sera, o oggi pomeriggio dopo l'incontro, di autografarvi il libro, il libro come sapete è disponibile nella libreria qui accanto. Il libro che cos'è? Il libro è un libro che ha scritto insieme a un altro grande amico, un altro grande amico della scuola, che è Ilvo Diamanti. Il libro ha un titolo, secondo me, abbastanza azzeccato, nel senso che, come tutti ci spiegano, il titolo in un libro è molto importante, nel senso che il libro può essere un libro geniale, ma se il titolo non è azzeccato e non attira, si va poco lontano. In questo caso il libro è molto interessante, ma il titolo è ancora molto forte. Popolocrazia. Popolocrazia, penso che di per sé capiamo qual è il punto e di per sé capiamo il fatto che la riflessione sull'evoluzione della nostra democrazia e il cercare di unire la riflessione sul populismo e la riflessione sulla democrazia trovano in Marc Lazare e Ilvo Diamanti tra l'altro due personaggi che sono abituati a lavorare insieme, a dialogare insieme, e quindi il libro è effettivamente un lavoro veramente a quattro mani che è nato, cresciuto insieme, che è uscito, è stato, diciamo, dato il visto si stampi prima delle elezioni del 4 di marzo, questo è importante dirlo, proprio perché il libro non è un instant book successivo alle elezioni, fatto come tanti libri stanno uscendo in questo periodo, per cogliere il momentum della novità di quello che è successo. il libro è una riflessione tipica da saggistica, molto profonda e molto interessante. Quindi io parto subito da questo, io farò un po' di domande a Marc, ma insomma Marc poi sarà anche disponibile a rispondere alle vostre domande, quindi preparatevi domande anche cattivissime, tipo domande sulle formazioni del Paris Saint-Germain, dovete sapere che Marc conosce tutte le formazioni del PSG, quindi adesso è diventato anche un tifoso di Buffon, tu per esempio sei di quelli che lo metterebbe in campo sempre o ti va bene anche che arriva il grande Buffon e viene messo addirittura in panchina? A me sembra un'umiliazione, francamente. Questo è un altro problema della francia di Italia. Ecco, esattamente. Complicato. Allora, quindi innanzitutto ti chiederei di iniziare questa conversazione se ci puoi sviluppare il perché del titolo. Quindi a partire dal titolo, Popolocrazia, credo che sia naturale cominciare da qui, che cosa volete dire con quel titolo, dove va quel titolo? Grazie, innanzitutto grazie per questo invito. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, il titolo, cioè quando si scrive un libro con qualcuno, cioè un carissimo amico e collega come Ilvo Diamanti, bisogna sapere chi ha fatto che. Il titolo è l'invenzione di Ilvo Diamanti. Se leggete, lui sta scrivendo ogni lunedì su Repubblica, io una volta al mese, e lui inventa parole. Allora, è lui che ha trovato questa parola Popolocrazia e dopo c'era già un'idea dietro questa parola e dopo effettivamente abbiamo lavorato durante quasi più di un anno per scrivere questo libro. Allora, che significa Popolocrazia? L'idea è la seguente. Noi parliamo molto giustamente, nel senso giustamente, perché il problema è davanti a noi, specialmente l'avete voi in Italia, e quindi noi l'abbiamo in Europa. Il problema è questo enorme successo, sempre più forte, dei partiti cosiddetti populisti e dei leader populisti. E di solito c'è un enorme, come noi diciamo nel nostro gergo accademico, c'è un'enorme letteratura sul populismo. Però spesso, e ci sono tante belle cose scritte sul populismo, ma la cosa che forse non è al centro dell'attenzione è di cercare di capire quale è il legame, qual è la relazione dei populisti e della democrazia. La nostra idea, la nostra tesi centrale, è di dire che i populisti, che siano al potere, come ci sono ormai in Italia, o che non sono al potere, come per esempio in Francia, hanno già vinto nel senso che hanno vinto quasi culturalmente. Stanno per trasformare le nostre democrazie. Hanno già un impatto enorme sul nostro democrazia. E questa è l'idea della popolocrazia. La popolocrazia è per dire qual è la differenza tra democrazia e popolocrazia. La democrazia ha ovviamente il potere del popolo, il fatto che il popolo sceglie o la possibilità di scegliere i suoi dirigenti. Ma c'è anche l'idea che c'è tutto un sistema di poteri e di contropoteri, specialmente in un Stato di diritto, che ci sono diverse strutture che limitano, è vero il potere del popolo, perché è così che si organizza la democrazia libera rappresentativa. Il popolo sceglie, ma dopo c'è lo Stato di diritto. Dopo ci sono la separazione dei poteri. C'è tutta una forma di contropoteri. Invece la popolocrazia è l'idea che il popolo sovrano non ha limiti. E quindi in questa prospettiva cambia tutto. Faccio un piccolo ragionamento, scusa forse dell'intervento che sarà un po' più lungo, perché veramente è importante da capire. Se facciamo un po', se gettiamo un sguardo storico, diciamo, sulle diverse forme dell'democrazia, e ovviamente sarà un po' schematico, alla fine dell'Ottocento, in diversi paesi del mondo, e soprattutto del mondo occidentale, c'è la democrazia parlamentare. Al ventesimo secolo c'è la democrazia parlamentare e di partiti. Alla fine del ventesimo secolo già c'è un'altra forma di democrazia che alcuni, diciamo, politologi soprattutto, hanno chiamato la democrazia del pubblico. La democrazia del pubblico era l'idea che i partiti tradizionali, le grandi ideologie di riferimento, erano in declino e che contava sempre di più il ruolo del leader e della televisione, dell'opinione pubblica. E questo era già una trasformazione importante. Secondo noi, Ilvo, Diamanti, io, pensiamo che all'interno di questa democrazia del pubblico forse siamo entrati in una nuova forma di democrazia che appunto chiamiamo popolocrazia. Non è più solo il potere del leader e dell'opinione pubblica, è il fatto che questi leader, specialmente questi leader populisti, appunto, di nuovo, ripeto, pensano che il popolo è sovrano senza limiti. E questo è importante perché, e in questo senso è la popolocrazia, questi populisti impongono le loro tematiche, l'immigrazione per esempio, i migranti, i stranieri, impongono il loro modo di fare la politica legata alla visione del mondo che hanno, una visione dicotomica, buoni contro cattivi, impongono la loro idea che non c'è nessun problema complesso, ma solo soluzioni semplici, impongono lo stile della politica, impongono anche la loro temporalità. E quando dicono che impongono, e questo anche è l'argomento della popolocrazia, è il fatto che anche gli altri leader che non sono sul fondo populisti hanno la tentazione di usare gli stessi strumenti per vincere. e io prendo, potrei prendere un esempio in Italia, forse ritorneremo. No, no, prendilo, prendo, è interessante. Ah sì? No, possiamo dire ovviamente che c'era una dimensione, c'è sempre una dimensione populista in questo senso dello stile di Matteo Renzi, ma prendo un altro esempio in Francia, uno che appunto ha fatto di tutto e farà ancora di tutto per vincere i populisti, Emmanuel Macron in Francia, per vincere all'elezione presidenziale, ha avuto bisogno di presentarsi come il candidato antisistema, malgrado il fatto che era ovviamente il candidato di un certo sistema, perché a causa della sua carriera è stato un altro funzionario, ha lavorato per Hollande, è stato ministro dell'Hollande, ha lavorato nelle banche, però ha avuto bisogno di usare questo stile, di presentarsi come antisistema, ma anche nello stile di comunicazione di presentarsi come un uomo che parlava direttamente al popolo. Questa è l'idea della popolocrazia e chiudo su questo, chiudo su due cose per farci capire bene, questa popolocrazia è reso, diciamo, fatibile, fatibile, grazie a questa rivoluzione totale che i partiti tradizionali non hanno ancora capito, che era rivoluzione digitale. la rivoluzione digitale fa che questa idea del popolo sovrano non è un'idea strata, è qualcosa di concreto per tutti grazie ai social network. E quindi è la nuova forma al ventunesimo secolo della democrazia diretta. È una democrazia, come dice Ilvo, immediata, immediata nel senso dell'emergenza permanente e immediata nel senso che non c'è più bisogno di mediazione o più esattamente l'unica mediazione si fa attraverso la figura del leader. Allora, chiudo veramente questa lunga risposta alla tua domanda facendo capire che per noi la popolocrazia è una potenzialità. Non diciamo ha vinto, diciamo forse potrebbe vincere. E il laboratorio di questa popolocrazia siete voi. E di questo punto di vista se posso dire per me l'Italia è molto interessante perché un laboratorio di studio come osservatorio è assolutamente perfetto. Mi dispiace di dirlo per voi perché forse non lo vivete così. Però come osservatore è molto interessante quindi è una potenzialità e vi prendo un esempio molto secondo me esemplario se posso dire. Vi ricordate che il presidente Mattarella ha rifiutato la prima proposta di governo a causa della presenza di un certo ministro Savonna. Subito quando ha fatto questa quando ha preso questa posizione che era una posizione possibile nell'interpretazione sua della Costituzione il Movimento 5 Stelle immediatamente lo stesso movimento che diceva bisogna rispettare l'istituzione ha detto facciamo una procedura di impeachment che non aveva nessun valore legale e la Lega ha detto organizziamo una marcia su Roma che significa ovviamente qualcosa della storia dell'Italia veramente pesante e tutti i due hanno detto ma questo presidente dopo hanno abbassato i toni ma in un primo tempo durante 3-4 giorni hanno detto questo presidente non è legittimo perché perché è stato eletto dalla precedente Camera dei Diputati e il Senato del precedente Parlamento questo è tipico al mio senso a mio parere della popolocrazia la loro idea nella loro testa quello che vince è il popolo sovrano il popolo ha votato ce ne freghiamo totalmente e ce ne fischiamo totalmente della Costituzione e dello Stato diritto finalmente hanno fatto marcia indietro e quindi per noi la popolocrazia non ha ancora vinto la popolocrazia è una componente specialmente forte in Italia ma presente in tanti altri paesi allora il ragionamento sulla popolocrazia richiama il populismo una parte molto interessante del libro è lo sviluppo del vostro ragionamento sulle categorie di populismo quando tu venisti due anni fa sviluppasti molti di questi punti sul populismo è evidente che quando tu facesti quella riflessione da noi non c'era stato Macron non c'era stato Salvini non c'era stato Di Maio allora quello che ti chiedo è sulla base di quello che è accaduto in Francia e in Italia ma diciamo la verità è qualcosa di più largo perché lo sviluppo del trumpismo negli Stati Uniti è parte di questa dinamica oggi la tua riflessione sul populismo come si è sviluppata rispetto a quel ragionamento di categorie perché tutti sappiamo che il populismo non è un concetto di oggi ci sono libri ricerche filoni interi di riflessione sul populismo fin dall'antichità successivamente per tutto il novecento ci sono stati dei passaggi chiave evidente che adesso viviamo una fase di un certo o di alcuni populismi ecco ti chiedevo di fare un aggiornamento con quello che è accaduto in questi ultimi due anni di questo punto è vero che nel libro parliamo anche di questi esempi storici di populismi specialmente alla fine dell'ottocento ma quale innanzitutto che tipo di riflessione dare del populismo perché questo è importante ovviamente ancora di nuovo c'è un'enorme letteratura possiamo dare una definizione minima che diciamo facilita il lavoro di riconoscimento dei populisti e populista quelli o quello diciamo quelli che pensano che c'è un'opposizione netta tra il popolo che sarebbe unito omogeneo e un'elite una casta un establishment totalmente unito totalmente omogeneo e che complotta in permanenza contro il popolo questa una prima definizione come lo dicevo il populismo ha questa visione dicotomica bene male sino brutto cattivo bello cattivo eccetera c'è l'idea ancora una volta che non ci sono problemi complessi ma solo soluzione semplice c'è la necessità soprattutto di inventare nemici nemici che possono essere orizzontali tra virgolette i stranieri i musulmani in alcuni paesi ormai di nuovo gli ebrei Soros per Orban per esempio o verticali appunto la casta questo diciamo è la definizione minima che ci consenta di capire un po' quello che succede che è cambiato diverse cose prima cosa dal 1945 ovviamente se ritorniamo più indietro nella storia sarebbe un po' diverso ma dal 1945 in Francia in Italia in altri paesi abbiamo avuto a volte pulsioni populisti ci sono state pulsioni populisti con il qualunquismo in Italia con il pugiatismo in Francia però quello che è cambiato è il fatto che dalla metà degli anni 80 fino a oggi quindi quasi 30 anni ormai c'è un populismo che ha una durata di vita quasi 30 anni ormai è sempre più crescente e secondo elemento c'è un'estensione di populismi dappertutto ancora una volta a volte possono vincere a volte non vincono ma vincono o cercano di vincere nelle teste della gente anche se non vincono non sono al potere quello che è cambiato anche è il fatto che questa è la grande differenza con i populismi storici quelli della fine dell'ottocento o quelli del periodo degli anni 20 in 30 in Europa e questo è un elemento molto importante da capire la maggioranza di questi populisti e dopo parlerò delle diverse distinzioni che possiamo fare si presentano come i veri democratici prima per esempio tra le due guerre negli anni 20 e 30 in Francia ne abbiamo avuto un sacco di populismi di estrema destra ma avevamo anche un partito comunista che aveva tentazioni populiste negli anni 20 e 30 erano contro la democrazia oggi si presentano come grandi democratici accusando tutti gli altri di non essere democratici di avere paura del popolo avete paura del popolo lasciate il popolo decidere e come decide il popolo attraverso il referendum e attraverso la pratica della democrazia diretta per la prima volta in Italia avete un ministro del parlamento e per la democrazia diretta è molto importante simbolicamente anche se non ha fatto granché per il momento ma questo è simbolicamente molto importante quindi questo è un elemento di grande differenza adesso quando parliamo del populismo è per significare per spiegare che c'è un fenomeno molto esteso ancora una volta e che adesso ha una durata di vita importante ma ci sono diversi populismi c'è un populismo regionalista per esempio è stato quello della Lega Nord all'inizio c'è un populismo dell'imprenditore voi avete inventato voi italiani sicuramente non voi in questa ola in questo teatro avete inventato il populismo dell'imprenditore che si butta in politica spiegando che la politica è come il mondo degli affari Silvio Berlusconi ma adesso Trump è una coppia di questo punto di vista una fotocoppia di Berlusconi a un livello ovviamente ancora più importante perché ha la testa degli Stati Uniti abbiamo stessi esempi nella Repubblica Ceca in Slovacchia abbiamo avuto esempio dello stesso tipo in Austria quindi imprenditori che dicono no la politica non ha nessuna autonomia è una cosa molto semplice io sono riuscito a fare affari posso fare la politica abbiamo populismi di sinistra di cui parliamo non abbastanza per esempio Sirisa in Grecia Podemos in Spagna la France Insoumise in Francia potremmo tornare su questo elemento per un populismo minoritario in Europa ma effettivamente che esiste in alcuni paesi e poi ci sono populismi di destra diciamo alla quale diciamo populismi di destra nel quale possiamo mettere quello della Lega e poi ci sono populismo o populisti né di destra né di sinistra come il momento 5 Stelle un elemento importante da capire quando parlano del popolo a volte non hanno la stessa concezione del popolo la distinzione che farò adesso è come si dice in sociologia idealtipica quindi non è la realtà ma ci permette ci consenta di capire la realtà per alcuni quando parlano del popolo parlano della gente comune in francese les gens in spagnolo la gente in inglese common people cioè in questo senso il popolo ha ragione perché è il buon senso del popolo questa è una certa concezione del popolo per alcuni populisti per altri populisti quando parlano del popolo è un'altra concezione del popolo è il popolo che è supposto essere cittadino attivo molto consciente che è sempre in politica io ho fatto nel libro perché la parte che ho scritto la distinzione usando parole del latino da una parte la gente comune la plebs e la gente nell'altra concezione del popolo cioè il popolo consciente cittadino attivo e il populus nel senso della Roma repubblicana cioè quello che ha una certa conscienza politica a volte c'è come dire una superposizione di queste una sovrapposizione overlapping di queste concezioni per esempio per uscire un po' del caso italiano in Francia la Francia insumise Jean-Luc Mélenchon usa le due concezioni del popolo Jean-Luc Mélenchon parla al popolo come cittadino attivo in un grande filone storico che esiste in Francia che è il jacobinismo cioè l'idea della rivoluzione francese il cittadino deve essere attivo ma nello stesso momento nel quale fa questo tipo di discorso parla sempre a le gente e le gente fa fare qualcosa la gente dovete svegliarvi ma è il senso comune della gente al quale lui cerca di cerca di mobilizzare quindi questa l'idea che abbiamo è vero che quando aveva fatto questa presentazione già i populisti erano presenti già c'era il movimento 5 stelle già non c'era ancora credo che erano 2000 non forse la Lega stava per cambiare non era più la Lega Nord ma già la Lega ma quello che è importante da capire è questa estensione e soprattutto questa trasformazione del rapporto alla democrazia loro ormai si presentano come democratici aggiungo solo una cosa per chiudere il ragionamento attento quando pensiamo questa novità dei populismi perché da una parte no non da una parte diciamo che c'è tutta una discussione attualmente molti studiosi ma anche osservatori giornalisti dicono attento c'è il ritorno degli anni 20 in 30 c'è il ritorno del fascismo parliamo chiaramente io non lo penso non lo penso anche se ci sono alcuni diciamo elementi di vera preoccupazione sulla democrazia come ho detto e questo potremo tornare su questo argomento però è vero che ci sono elementi diciamo legati al passato del populismo e soprattutto questa idea che appunto il popolo omogeneo è a tutti i diritti ma c'è una grande novità e appunto questa novità sul rapporto alla democrazia e questo è importante da capire alcuni movimenti populisti che ovviamente sono di destra estrema o di estrema destra fanno molto attenzione a quello che dicono e prendo un esempio per essere molto chiaro la Marine Le Pen viene da una famiglia di estrema destra è veramente di estrema destra però per esempio lei non è mai andata a manifestare durante le enormi manifestazioni in Francia contro la legge per il matrimonio per tutti mai la sua nipote sì la sua nipote tra parentesi molto più vicina a Salvini o più esattamente a Salvini molto più vicino alla nipote che alla Marine Le Pen chiudo questa parentesi ma potremmo tornare perché non è andata alle manifestazioni lei perché lei aveva studiato per una volta studia poco ma questa volta aveva studiato la componente del suo elettorato lo front nazionale oggi si chiama lo rassemblement nazionale è il primo partito tra i giovani il primo partito tra i giovani 18-25 anni da anni anche nel 2017 Macron è giovane ma non ha avuto il voto dei giovani il primo partito è il partito dei giovani e lei ha studiato e ha cercato di capire ma questi giovani sono per il matrimonio per tutti o no e tutti questi giovani che votano per la Le Pen se li fischiano totalmente che sia omosessuali che si decidono di avere un matrimonio se li fischiano totalmente quindi lei non è andata ma non solo lei si presenta come una donna moderna divorziata che educa le sue figli da sola adesso ha un compagno tutti lo sanno e lei spiega io sono una donna moderna non voglio tornare al medioevo che vogliono imporersi imporre mi sbaglio sempre Enrico ogni volta mi dice sei un cattivo studente perché lui è un professore di italiano e quindi i musulmani vogliono imporre la visione tradizionale delle donne io rifiuto quindi è una cosa incredibile perché negli anni 70 l'estrema destra in Francia come dappertutto era totalmente opposta alle conquiste femminili ormai la stessa cosa nei paesi bassi in Olanda la stessa cosa nei paesi nordici l'estrema destra populista difende le conquiste femminili degli anni 70 anzi il leader del partito populista ollandese era Pim Fortuin il creatore di questo partito che era un omosessuale dichiarato diciamo quindi attento quando cerchiamo di capire il presente ovviamente è lo storico che parla a prendere in considerazione la storia ma non prendere le occhiali del passato per capire il presente tu nella tua prima risposta hai fatto un riferimento alla rivoluzione digitale allora viene naturale nel libro ne parlate lungamente ne abbiamo parlato molto ieri ne abbiamo parlato molto oggi nei gruppi e in alcuni degli atelier se ne è discusso aprire il capitolo su questo tema perché è evidente che nella trasformazione che sta alla base della vostro brand quindi di popolocrazia sta la considerazione del fatto che oggi esiste con molta maggiore facilità lo strumento per la relazione diretta tra il leader il capo e la folla il popolo ma soprattutto la disintermediazione che oggi esiste in tutte le attività economiche e sociali la fine della intermediazione che stava nell'economia pre internet e soprattutto nell'economia pre smartphone fa sì che in politica questo elemento è uno snodo che modifica tutto i partiti sono dovunque in difficoltà in crisi in particolare nei posti dove i partiti erano molto pesanti negli Stati Uniti in fondo questo ragionamento è stato meno tra virgolette rivoluzionale perché i partiti sono sempre stati come dire un organizzatore di primarie piuttosto che quello che abbiamo conosciuto da noi e allora come l'impatto non di internet perché internet c'è ormai da tanto tempo ma l'impatto degli ultimissimi anni cioè degli smartphone e soprattutto dei social media sta alla base della nascita della popolocrazia e se è così cosa secondo te possiamo aspettarci in termini di sviluppo futuro cioè se le cose stanno così sarà sempre di più che alla fine il leader attorno alla sua leadership costruisce un movimento politico e quindi i movimenti politici cambieranno a seconda dei leader e non ci sono e non ci saranno più sviluppi di tradizioni politiche come ci sono state per tutti tutto il secolo scorso che prescindono dal leader hanno un gruppo dirigente e come tutto questo si porrà rispetto alle decisioni anche che nei nostri paesi andranno prese perché qui per esempio la differenza tra Francia e Italia è una differenza sulla quale magari se vuoi sviluppare un po' il tuo ragionamento può essere interessante allora ci sono molti argomenti in questa riflessione e domande al plurale che fai innanzitutto è una rivoluzione totale perché il sistema di comunicazione prima era un sistema diciamo dell'alto verso il basso che siano i giornali del passato anche se esistono ancora fortunatamente però diciamo un giornale era un media che veniva dall'alto e che scendeva ovviamente doveva prendere in considerazione la reazione dei lettori però diciamo la verticalità era il metodo di organizzazione del giornale anzi è stato teorizzato da Lenin per esempio per creare un partito bisognava avere un giornale ha creato la Pravda la radio la televisione è stessa cosa cioè un media che veniva dall'alto e che scendeva e che prendeva in considerazione ovviamente la reazione più o meno che si conosceva più o meno di quelli che ascoltavano o guardavano le trasmissioni con internet e social network l'orizzontalità è qualcosa di totalmente nuovo e questo è veramente un enorme cambiamento l'abbiamo detto allora quali sono le forme di aggregazione in questo contesto per riprendere categorie molto note ormai con Bauman per esempio nelle nostre società liquide ovviamente le aggregazioni e soprattutto in politica possono farsi sia con i social network appunto perché se lo sappiamo benissimo noi sui social network guardiamo le nostre non guardiamo pochissimo le altre o attraverso la figura del leader è vero che abbiamo sempre di più una trasformazione di partiti politici abbiamo una personalizzazione di partiti tradizionali questo l'abbiamo visto per esempio in Francia con il partito socialista già nel passato quando Mitterrand ha preso la direzione del partito socialista nel 1971 ha cercato di personalizzare il partito sulla sua figura ma il partito golista che ha una grande tradizione già di personalizzazione ha fatto la stessa cosa con Nicolas Sarkozy che ha ancora accentuato la personalizzazione Renzi in Italia quando ha vinto le primarie ha deciso di personalizzare il partito non era più la ditta come diceva Bersani ma era il partito personale Ilvo l'ha chiamato il PDR il partito di Renzi secondo me non sono d'accordo con lui ma questo è un altro discorso quindi la personalizzazione dei partiti è una cosa la cosa nuova come l'hai detto è il fatto che ormai alcuni leader hanno deciso di creare il loro partito ha iniziato prima di questa rivoluzione digitale ancora una volta con Berlusconi che ha deciso nel 1994 di creare Forza Italia partito totalmente personale non un partito che esisteva prima e che personalizzato un partito personale che lui volontariamente non ha mai voluto creare organizzare strutturare ma che era lo strumento al suo unico servizio il risultato è in grande difficoltà oggi non è l'unica ragione l'altro esempio gli altri esempi che abbiamo avuto di creazione di partiti personali ma questa di partiti personali ma questa volta legati alla rivoluzione digitale alla mia conoscenza ci sono due il movimento 5 stelle in Italia e la repubblica en marche di Emmanuel Macron sono partiti che sono legati a un leader sono diversi sul contenuto ovviamente ma sono partiti creati da un leader Bebe Grillo in Italia Emmanuel Macron in Francia pensate che all'inizio è en marche E.M. Emmanuel Macron quindi totalmente simbolicamente personalizzato e sono partiti che dicono abbiamo un leader verticalità e d'altra parte abbiamo l'orizzontalità perché facciamo tutto un lavoro teoricamente di consultazione permanente di nostri membri ha funzionato per il momento 5 stelle fino alla sua vittoria alle ultime elezioni cioè al fatto che è stato primo partito non so come funziona attualmente ma quello che so è quello che succede alla Repubblica Marche e per cui perché lo so perché abbiamo appena concluso una ricerca io non dirò tutto perché ufficialmente sarà pubblicato l'8 ottobre però lo dico in due parole abbiamo fatto un'enorme indagine grazie alla collaborazione della Repubblica Marche che ci ha dato accesso ai suoi 390.000 aderanti ufficiali ma attento per essere aderante membro della Repubblica Marche basta prendere il computer e fare un click siete subito membri potete farlo uscendo di questa sala non c'è problema è anche dentro quindi lo fate sul vostro iPhone siete subito membro della Repubblica Marche o membra della Repubblica Marche e saranno molto contenti di avere di nuovi aderanti italiani eccetera abbiamo fatto un enorme sondaggio questionario questionario abbiamo avuto quasi 9000 risposte che è un compione molto importante sociologicamente non dico i risultati perché è un documento di più di 150 pagine ma c'è su questo argomento l'elemento di forza e l'elemento di debolezza di questi partiti la forza è il fatto che sono tutti alla Repubblica Marche su 8000 cioè questi quasi 9000 che ci hanno risposto sono la Repubblica Marche per l'Europa questo l'opposto dei populisti e per Emmanuel Macron cioè Macron è il loro dio esagero un po' perché a volte sono un po' critici e appunto su che argomento sono critici del leader che per loro è veramente uno geniale straordinario grande capacità comunicativa visione del futuro bel progetto per la Francia per l'Europa eccetera perché non ci ascolta abbastanza quindi vediamo un elemento forse di tensione interno al partito che abbiamo visto anche al momento dell'elezione del presidente dell'Assemblea nazionale la Camera dei Diputati nel quale 58 diputati hanno rifiutato di votare per quello che era considerato il candidato del Presidente della Repubblica perché sono critici perché dicono perché abbiamo fatto anche intervisti qualitative dicono siamo venuti per l'orizzontalità per partecipare abbiamo un leader e possiamo dire lo dico quasi tra di noi abbiamo un capo siamo fieri di questo capo siamo pronti a mobilizzarci per le prossime europee e quando lui dirà andiamo alla battaglia per le europee ci saranno tutti i quasi 300.000 sono sicuro che andranno a fare la campagna delle europee c'è una base veramente forte c'è una coesione l'Europa Macron l'educazione tre valori fondamentali per loro Europa Macron educazione ma nello stesso tempo se siamo venuti a questo partito che diceva siamo diversi degli altri abbiamo l'orizzontalità non ci ascoltano abbastanza vogliamo avere più dibattito di idee vogliamo essere come dire coinvolti nella decisione politica mentre lo statuto del partito è molto verticale molto verticale e sarà ancora di più un elemento di tensione a causa del profilo sociologico educativo sono tutti dei ceti medi superiori con un altissimo livello di educazione senza paragone con la media dei francesi hanno quasi tutti il livello laurea che è una cosa eccezionale quindi tutto questo per dire che sicuramente i partiti tradizionali sono morti questo lo sappiamo tutti come rifare un partito in queste condizioni di verticalità necessaria perché ormai ma questo è un vecchio dibattito con Enrico da direi cinque anni quattro anni un certo 2014 su se bisogna o non bisogna avere un leader forte secondo me è così la politica possiamo essere in disaccordo ma bisogna avere un leader forte per fare le politiche un'incarnazione di qualcosa attraverso un leader e nello stesso tempo a causa appunto di questa organizzazione della digitalizzazione di questi social network la necessità non solo di dire faremo orizzontalità ma veramente di farlo vivere questa orizzontalità e chiudo scusate questi lunghi interventi ma veramente voglio essere preciso perché c'è un paradosso dentro tutto questo un altro paradosso il paradosso l'avete capito è tra la verticalità e l'orizzontalità è un'attenzione subito per fare dopo vivere questo organismo questo partito tra virgolette nuovo che sia il momento 5 stelle che sia il partito della Repubblica Marche ma l'altro paradosso è quello legato al leader più il leader è forte più è esposto anzi più è sopraesposto ai media a tutto più al minimo problema è indebolito avete ne avete fatto l'esperienza in Italia Matteo Renzi popolarissimo vince le primarie vince le elezioni europee si butta in diversi riforme fa la proposta sul referendum costituzionale e lo perde indebolito anzi in grande difficoltà Berlusconi stessa cosa leader forte sopraesposto primi problemi anche se lui ha avuto una capacità di resistenza e di resilienza assolutamente straordinaria ma Emmanuel Macron Emmanuel Macron che adesso ha un livello più basso di popolarità e io non ci lo pensavo ho fatto un intervento alla Johns Hopkins di Bologna in maggio e lo so che è su YouTube eccetera e dicevo perché avevo i dati all'epoca in maggio allo stesso momento cioè un anno dopo quando facevo il paragone e la comparazione tra un anno dopo per Sarkozy e un anno dopo Hollande avevano tutti perduto ma Macron era ancora molto superiore molto più alto che Sarkozy e Hollande un anno dopo le loro elezioni questa volta in settembre è sotto il livello di popolarità di Hollande è sotto il livello di popolarità di François Hollande che aveva perso tutto dopo alcuni mesi e che non è mai non è mai riuscito a risalire salvo al momento dell'attentato contro Charlie Hebdo unico momento nel quale ha ripreso un po' di popolarità perché c'era un dramma nazionale che l'ha gestito se posso dire incarnato molto bene anche tutti quelli opposti a Hollande l'hanno riconosciuto ma attualmente Hollande Macron è sotto perché? perché è talmente esposto che diversi problemi il famoso caso Benalà di questo guardia del corpo di cui avete sentito parlare subito indebolito subito e come per il momento non ha voluto appunto creare una squadra avere un partito veramente che lo protegge anche è in grande difficoltà quindi questo è il paradosso della popolocrazia o della democrazia del pubblico della popolocrazia bisogna avere un leader forte ma questo leader ha un grande rischio perché come è sopraesposto più è forte più rischia di essere debole il paradosso è veramente importante hai detto hai fatto un punto che è molto gustoso e lo voglio lo devo sviluppare assolutamente a un certo punto hai fatto un parallelo tra On Marche e il 5 Stelle secondo te è un parallelo solamente da alcune caratteristiche che hanno in comune oppure non è impossibile che l'anno prossimo nella semplificazione che le elezioni europee nel continente porteranno alla fine dentro il Parlamento europeo si creeranno 5-6 gruppi quindi è possibile secondo te è immaginabile che questi due partiti si trovino insieme quello che sembra oggi un paradosso assoluto perché oggi il governo italiano e il governo francese sono in una situazione di grande dialettica però la possibilità di vedere una qualche forma di confluenza tra questi due movimenti politici non è impossibile volevo sapere che cosa ne pensavi credo che adesso è difficile quasi impossibile all'inizio quando i fondatori di On Marche che dopo si è chiamato la Repubblica On Marche avevano studiato il Movimento 5 Stelle posso dirlo erano interessati a questa esperienza ovviamente non condividono non avevano le stesse posizioni non avevano lo stesso contenuto ovviamente ma sulle forme di strutturazione del Movimento 5 Stelle l'hanno studiato appunto questo misto di orizzontalità e di verticalità e l'importanza di tutto le consultazioni attraverso la rete la piattaforma russo eccetera questo è stato veramente un elemento di riflessione per la strutturazione della Repubblica On Marche dopodiché si sa io non svelo un segreto che quando c'è stata la vittoria cioè quando c'è stato questo governo o prima anche del governo della formazione del governo la Repubblica On Marche ha potuto pensare che forse il Movimento 5 Stelle era diverso e che forse si poteva trovare forme di accordo a livello europeo adesso con quello che è successo dal momento della formazione del governo le prese di posizione di Di Maio è impossibile assolutamente impossibile almeno dal punto di vista della Repubblica On Marche cioè la Repubblica On Marche cerca di fare esplodere il Partito Popolare Europeo questo è chiarissimo suo obiettivo cercando di creare tutto un nuovo raggruppamento di formazione progressiste e pro-uropee e quindi attualmente il Movimento 5 Stelle non ha fatto almeno Di Maio forse all'interno ci sono sensibilità diverse preparatevi perché adesso tocca a voi quindi se ci sono delle domande cominciate a palesarvi ti faccio l'ultima mia domanda che è questa hai detto a un certo punto hai detto proprio così i partiti tradizionali sono morti forse un po' rapido ecco un po' rapido il Partito Democratico come lo situi qui dentro cioè faccio la domanda meglio è meno maliziosa per quello che è successo in Italia cioè il grande cambiamento che è avvenuto con le elezioni ma soprattutto poi con il dopo elezioni cioè il fatto che dopo le elezioni quei due pezzi i due vincitori tra virgolette sono riusciti a mettersi insieme e oggi c'è questo governo l'alternativa a questo governo secondo te verrà fuori dalla ricostruzione in continuità con la storia del Partito Democratico di quella storia di centro-sinistra oppure l'alternativa a questa novità arriverà con nuovi schemi nuovi brand nuovi leader e un qualche cosa che supererà in novità quello che è avvenuto oggi in Italia mi sembra una domanda un po' trappola ma allora io non so la risposta sono molto interessato a capire cosa anche io perché se avevo la risposta sarei il profeta no innanzitutto quando ho detto troppo rapidamente i partiti tradizionali sono morti i partiti tradizionali il modo di organizzazione questo secondo me è impossibile continuare impossibile non impedisce e questo è lo storico che parla che i partiti possono avere una durata di vita più lunga che pensiamo cioè noi in Francia abbiamo partiti che esistono ancora il piccolo partito radicale che era il grande partito della terza repubblica quindi fino a 1940 che sembrava totalmente morto dopo la seconda guerra mondiale ci sono ancora alcuni aderanti ci sono anche alcune forze locale del partito radicale quindi la durata di vita è lunga c'è un partito in insediamento territoriale ci sono eletti c'è gente che ci crede ci sono ancora quelli che noi chiamiamo nel passato militanti parola che secondo me dobbiamo assolutamente abbandonare ripensare totalmente perché il militante faccio un po' di caricatura lo sviluppiamo in questo libro cioè questa indagine sulla Repubblica Marche il militante tradizionalmente sono un po' nella caricatura è quello che aderiva a un partito faceva dono della sua vita per il partito riprendeva totalmente la visione del partito oggi e da decenni questo è terminato se tu aderisci a una forma partito o un movimento qualcosa che è lanciato in politica lo fai perché sei un individuo qualcuno che a volte condivide molte cose ma d'altra parte ha la tua forma diciamo di adesione e di impegno e diciamo la politica ha la carta a volte puoi veramente impegnarti su alcuni temi e un po' meno su altri hai la capacità di essere sempre in un ragionamento critico quindi la parola militante secondo me dobbiamo abbandonarla perché è legata a una storia veramente del passato non impedisce la necessità dell'impegno civico questo un'altra cosa allora quindi i partiti tradizionali la forma di organizzazione ma tutti lo dicono cioè che siano i partiti di destra che siano i partiti del centro quelli di sinistra dicono dobbiamo ripensare nell'aereo stamattina leggevo un contributo di un dirigente socialista che cerca di appunto fare un gruppo di lavoro e il titolo è che tipo di partito e inizia dicendo non possiamo più fare la politica come avevamo fatto nel passato soprattutto che il partito socialista attualmente è al 4% 4.5% non impedisce che ha sempre un insediamento territoriale a livello locale importante quindi la durata di vita di partito può essere lunga questa è la prima cosa dopo dobbiamo ripensare totalmente la strutturazione degli organismi di intermediazione della politica e questo è un elemento importante perché la popolocrazia in questo senso è una trasformazione fondamentale fondamentale nelle nostre democrazie e l'idea che gli organismi cioè le organizzazioni di interesse sia politici sia sociale non hanno più un ruolo perché sarebbero solo organizzazioni che difendono interessi specifici questo è un rischio enorme secondo me per la democrazia e quelli che hanno giocato a questa questa carta diciamo pensando parlare direttamente al popolo di nuovo Renzi in Italia per esempio e lo dico veramente con molto distacco e non essendo di parte o anti Renzi meno fisico perché poi non sono italiano ma no ma veramente lo non non solo italiano come lo sapete ma mi interessa come osservatore come fa dall'inizio della sua elezione Macron che ha cercato di parlare direttamente al popolo come Renzi esattamente come Renzi cercando di dire l'organizzazione di interesse i partiti leggete il suo libro Rivoluzione Rivoluzione che è stato tradotto in Italia in italiano c'è tutto un capitolo dicendo il peggio sui partiti quindi lui non ha nessuna empatia neanche per il suo proprio partito questo è chiaro assolutamente è chiaro e sull'organizzazione sindacale le ha ignorate vedendo il risultato della sua caduta di popolarità da alcune settimane e mesi ha deciso di riprendere di cercare di riprendere un lavoro di negoziazione tutto questo per dire che dobbiamo che c'è una necessità per la democrazia di avere organizzazioni politiche ma tutto il problema è di sapere come organizzarle per rispondere alla tua domanda io non ho risposta ma adesso credo che sono sicuro di due cose vedendo la situazione specifica dell'Italia la prima è che la grande cosa è chi è per l'Europa e chi è contro l'Europa e questo clivage come diciamo clivage frattura clivaggio adesso clivaggio più o meno entra no lo so che tu non sei d'accordo perché sei un purista della lingua italiana allora diciamo usiamo la parola inglese clivage ormai è decisivo nel vostro paese come in tanti altri paesi e se è decisivo ovviamente i confini tra i partiti cambiano ovviamente perché questa divisione questa opposizione questa frattura questo clivaggio questo clivage passa sia all'interno della sinistra sia all'interno della destra quindi questo sarà un elemento di ricomposizione del sistema politico sicuramente e perché ci sono le elezioni europee perché è un anno cruciale l'anno 2019 e poi l'altro argomento ormai è che tipo di democrazia vogliono gli italiani e di questo punto di vista è sicuramente in pericolo la popolocrazia può trasformarsi in un'altra forma di democrazia è la democrazia illiberale cioè la tappa seguente della popolocrazia è la democrazia illiberale leggete il libro straordinario di Yasha Munch che è stato anche pubblicato in italiano è un bestseller ormai quasi mondiale è stato pubblicato da Harvard University perché lui è professor Harvard ha scritto un libro molto semplice da leggere fondato su un'enorme documentazione e si chiama credo che lo stesso titolo in italiano il popolo contro la democrazia in inglese people versus democracy in francese le pop contro la democrazia mi ricordo il sottotitolo come se mi ricordo bene come la democrazia è minacciata come cercare di evitare la morte della democrazia e che difende come posizione è un libro veramente facile da leggere la ragione del suo successo internazionale tra diverse cose dice che da una parte c'è una situazione nel quale ci sono democratici noi senza più liberalismo no scusate è il contrario c'è liberali che non sono più democratici che non ascoltano più il popolo che non lo prendono più in considerazione questo da una parte e da una parte ci sono i populisti che si dicono democratici e che non sono liberali il risultato può essere quello che succede in Ungheria che il Parlamento europeo ha condannato finalmente con l'articolo 7 Ungheria Polonia cioè la democrazia illiberale Orban vince l'elezione e dice posso fare quello che voglio popolocrazia popolo ha ragione e quindi riducco tutte le libertà e secondo me questi due cleavage l'Europa pro o antieuropea che tipo di democrazia per il rispetto della democrazia liberale rappresentativa aggiornata rieventata ripensata riformulata con secondo me molto più spazio alla democrazia partecipativa o la democrazia illiberale che vogliono imporre questa volta non mi sono sbagliato il Movimento 5 Stelle e la Lega lì in mezzo ah c'è già il microfono scusa vai buonasera voglio due domande abbastanza brevi una più generica e una più specifica quella generica se ci può fare una previsione su quello che potrebbe essere il voto italiano e francese alle europee anche considerando che bisognerà diciamo decidere il successore di Juncker e quella più specifica invece sul Front National può riprendere la prima domanda perché appunto il voto italiano francese alle elezioni europee anche considerando che si dovrà appunto scegliere il successore di Juncker quindi si dovrà comunque trovare una quadra diciamo a livello europeo e quella più specifica invece sul Front National se tutta questa diciamo operazione di maquillage dall'abbandono del padre e poi questa divisione tra appunto Marine e la nipote non può essere un modo di parlare a una destra nuova appunto più giovane più moderna tenendo dentro i nostalgici facendo finta diciamo di separarsi in realtà separati in casa essendo la stessa famiglia io direi se fai risposte brevi rispondi direttamente e poi prendiamo altre domande allora sulle elezioni europee ovviamente dobbiamo aspettare il risultato dell'elezione quindi per darvi solo un'indicazione c'è stato un sondaggio pubblicato ieri che dà la Repubblica in Marche a 21.5 e il Rassemblement Nazionale a 20% dietro gli altri molto più indietro sicuramente la designazione del Presidente della Commissione europea sarà decisivo decisivo sul futuro dell'Europa Rassemblement Nazionale Marine Le Pen e la sua nipote per il momento la nipote ufficialmente non fa più politica fa come Enrico Letta sei ispirata no lei sei ispirata appunto sì quindi sei ispirata del modello Letta ha fatto la scuola politica allora che faranno Enrico Letta e Marion Maréchal Le Pen torneranno in politica vedremo potremmo invitare Marion Maréchal Le Pen qui l'anno prossimo però non credo per il momento a una rottura interna all'Assemble Nazionale veramente sono due linee diverse Marine Le Pen vuole essere da sola e cercare di riorganizzare la politica accanto al suo partito e fare mettere in crisi la destra mentre Marion Maréchal Le Pen non esclude un'alleanza con il resto della destra ma su valori più tradizionali Buonasera io ho due domande molto rapide la prima lei ha detto prima che questi partiti tra virgolette populisti sono qua questi partiti populisti lei ha detto prima hanno bisogno di un nemico di un capro espiatorio allora la prima domanda è quanto tempo dura il giochino del capro espiatorio e la seconda secondo lei è una previsione il partito del Movimento 5 Stelle e della Lega sono destinati a confrontarsi nel futuro o troveranno una convergenza più o meno duratura visti anche insomma i movimenti della Lega in Europa abbiamo visto che si è incontrato con Orban faranno un certo tipo di coalizione allora il Movimento 5 Stelle si adeguerà o farà i propri calcoli e andrà separatamente sulla prima domanda è molto bella come prima domanda ma il capro espiatorio il nemico può durare molto quando la situazione che è all'origine del fatto di creare un capro espiatore non è risolta è molto semplice da capire se la situazione economica e sociale per esempio non ci sono combiamenti veramente importanti in termini di riduzione della disoccupazione delle inegualianze della povertà ovviamente è molto semplice di dire tutto questo la responsabilità dell'Europa si poteva dire la responsabilità dei precedenti governi ormai si può dire è l'Europa l'Europa non ci lascia fare quello che potremmo fare molto semplicemente per risolvere questo problema e secondo un grande scappio espiatore grande nemico è l'immigrazione e gli immigrati e i migranti allora di questo punto di vista la grande forza almeno in Italia soprattutto in Italia ma in altri paesi la grande forza di questi populisti è di avere miscolato tre cose che sono diverse gli immigranti regolari adesso in Italia ne avete 5 milioni 4 volte di più del 2001 i migranti clandestini che sono sul territorio stimati a 500.000 e i migranti che sono arrivati che da quasi un anno arrivano in proporzione molto minore ma che i populisti sono riusciti a fare credere alla popolazione che il problema è il numero uno allora come siamo confrontati a una paura enorme in tutta l'Europa in tutta l'Europa dei migranti del terrorismo dell'islam ovviamente secondo me non è per chiudersi molto rapidamente e aggiungo un punto sull'immigrazione quindi la prima categoria immigrazione regolare in Italia in Francia in Germania eccetera c'è un grosso problema sul quale che sfruttano i populisti è la crisi dei due modelli di integrazione il modello multiculturale che esisteva soprattutto nei paesi dell'Europa cosiddetta del nord e in Gran Bretagna e il modello repubblicano alla francese e quindi in una situazione di grande tensione economica e sociale ma anche quando non c'è una situazione di grande tensione come il caso in Svezia in Repubblica cieca eccetera il fatto che questa crisi del modello di integrazione è talmente forte dà una possibilità ai populisti di continuare a usare queste figure dei capi ispettori quindi secondo me non è terminato il Movimento 5 Stelle sono normalmente condannati a un momento a dividersi e a rompere però tutto il problema di sapere quando e poi secondo me c'è un altro elemento forte è il fatto che c'è un filo rosso tra di loro che è chiarissimo nel contratto di governo è l'affermazione della sovranità nazionale e più ci sono critiche attacche venute da fuori specialmente come è stato il caso spesso dalla Francia più immediatamente anche se hanno lo sappiamo tutti tanti elementi di divisione hanno subito questa capacità di rimettersi insieme per denunciare le offese le critiche le attacche venute dall'estero quindi la sovranità nazionale è sicuramente qualcosa sul quale non abbiamo abbastanza riflettuto come cemento tra di loro sappiamo tutti gli elementi di divisione anche la competizione politica personale tra Salvini e Di Maio sappiamo che gli elettorati sono diversi sappiamo che le loro aspettative di questi elettorati sono diversi sappiamo che non hanno lo stesso contenuto di programma tutti lo sappiamo ma c'è questo elemento hanno condividono l'idea che la sovranità nazionale è più importante che quello che dice Macron la sovranità europea e questo è l'elemento chiave dei populisti non l'ho detto che siano di destra di sinistra imprenditori regionalisti eccetera è l'idea della sovranità del popolo in una nazione anche in Catalogna che non è solo una regione ma secondo independentist una nazione l'ultima domanda buonasera io a me capito molto la questione del leader forte ok sì la questione del leader forte cioè volevo chiederle cos'è per lei il leader forte è un leader è un leader Siffra... 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 serva 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 serv Serba, 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 ser Serba! Sirva, 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 Sirva. Serva, serba, 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 serba. Nel quadro della Quinta Repubblica francese, che è un'eccezione in Europa, la Quinta Repubblica ha bisogno di un leader forte. Io l'ho già scritto in un altro libro sulla Francia di Macron, il leader forte nelle istituzioni della Quinta Repubblica è l'olio che fa funzionare le istituzioni della Quinta Repubblica. E ne abbiamo avuto alcuni leader forti, abbiamo avuto leader deboli e subito le istituzioni in questo caso non funzionano bene. Il problema è di sapere se sono veramente istituzioni democratiche, c'è tutto un dibattito in Francia, una parte dei francesi dicono che dobbiamo cambiare la nostra Costituzione, perché dà troppo potere al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica in Francia ha un potere incredibile, è l'unico nel mondo capace di dire posso cambiare Parigi e l'hanno fatto tutti, non ancora Macron. François Mitterrand ha fatto l'opera Bastiglia, ha fatto un nuovo arc di trionfo, ha fatto fare la piramide dell'Uvro, quindi è rimasto e è entrato nella storia con grande est. Tutti i Presidenti della Quinta Repubblica sono decisi, un po' come un re, di cambiare la fisionomia della capitale di Parigi, a volte per il bene, a volte per il peggio. Nel caso dell'Italia e della democrazia parlamentare è molto interessante, perché questo è esattamente quello che è la grande scommessa, la grande sfida per l'Italia attualmente, secondo me. Chi vincerà? La popolocrazia, cioè Salvini Di Maio, capace di cambiare nella pratica il funzionamento dell'istituzione? O ci sarà, come è stato spesso nel passato, la capacità di ammortizzazione dell'istituzione? Il mio grande amico, per il quale ho la più grande stima, il professore Sabino Cassese, dall'inizio crede nella capacità di assorbimento dell'istituzione. L'ha detto nella presentazione del nostro libro con Ilvo Diamanti a Roma, alla terza, nella sede della Casa Elettrice, ha sviluppato questo ragionamento dicendo che sono convinto che era in maggio, non ne ho parlato con lui in settembre. Io ho sentito, quando ho detto l'ultima domanda, un o no voce femminile. Se questo o no voce femminile vuole fare un'ultima domanda... Allora, lassù, prova a farlo con la voce altissima. Vai. Allora, la parola di Contiglista è un po' ammortizzato da un unneo finale con questo viaggio che si chiama, che ci sono in particolare, che si fa un teneo, 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 e che si fa un teneo? No, ma il futuro della democrazia è nelle nostre mani. No, ma a tutti. Attualmente, per esempio, c'è un dibattito tra i studiosi. Munch, nel suo libro, più o meno un libro militante alla fine, lui dice che ci sono tre terapie per questa malattia. Cioè rilanciare l'economia, regolare la rete sociale, rifare una religione civica che dimostra che è molto americano. E lui lo dice alla fine, due pagine finali, dicendo che non voglia rimanere più o meno nel ghetto del mio campus di Harvard. Sapete che in America le università sono completamente chiuse su di loro e totalmente separata del resto della popolazione. Altri dicono, sono per il momento piuttosto su questa posizione, dicendo che il nostro lavoro a noi come studiosi di cercare di capire, non stigmatizzare, non condannare, ma di capire e dare strumenti a quelli che si impegnano per fare qualcosa. Io penso che nella situazione attuale c'è un rischio che la popolacrazia non sia solo una potenzialità, ma vince. E vince trasformandosi ancora una volta in democrazia illiberale. Allora, che posizione avere per quelli che vogliono essere sempre nella democrazia? Secondo me non rimanendo nella difesa della democrazia liberale rappresentativa classica. E chiudo su questo. Io sono molto vicino di questo punto di vista a un sociologo, filosofo, storico e politologo francese, che si chiama Pierre Rosanvalon. E l'idea di Pierre Rosanvalon, nel suo libro Contro democrazia, che è stato anche tradotto in italiano, è di dire che la democrazia liberale rappresentativa non può più essere, come nel passato, fondata solo su organizzazioni e elezioni ogni 4 o 5 anni. Non è più possibile. Assolutamente più possibile. Perché? Perché livello di esigenza della popolazione, l'incremento, cioè il fatto che la popolazione è più istruita ormai, non si soddisfa più di aspettare ogni 4 o 5 anni. E soprattutto anche grazie alla rivoluzione digitale. Quindi dobbiamo inventare una democrazia liberale rappresentativa riorganizzata, rinnovata, aggiornata. La democrazia partecipativa non è la democrazia diretta. La democrazia diretta è la sostituzione al posto della democrazia libera rappresentativa, lasciamo il popolo decidere, che significa sempre un minoranza che lo fa. Storicamente è stato sempre così. No, la democrazia partecipativa è un aggiuntivo, c'è qualcosa di più. Si può trovare, esistono già molte forme di associazione della popolazione alla presa di decisione tra due elezioni. E quindi dobbiamo ripensare le forme classiche della democrazia libera rappresentativa. Non essere sulla difensiva. Il problema, e questa è una nota di pessimismo, è di sapere se veramente la gente è convinta. Munch nel suo libro mette in rilievo quello che noi abbiamo visto, noi, il Vodiamanti, io, ma tanti altri studiosi, in Francia, in Italia, in tutta l'Europa. Cresce sempre di più la parte di popolazione che dice, ormai, in questa situazione di difficoltà economica e sociale, o se non c'è difficoltà economica e sociale in alcuni paesi dove sono usciti dalla crisi, ma di globalizzazione, di paura, i migranti, l'islam, il terrorismo, eccetera, c'è ormai un terzo di europei che dice perché non regime autoritario. Quasi 33%, 36% in Italia, 32% in Francia, media europea 33%. Un terzo. Un incremento enorme in confronto del passato. Quindi dobbiamo essere molto acauti perché c'è questo rischio secondo me non di dittatura di autoritarismo, di una figura appunto di leader forte che non sarebbe solo forte ma un'autorità totale, un piccolo duce, un piccolo cesare. E questo veramente è un rischio. Io credo che questa chiacchierata ci abbia dato delle grandi illuminazioni non soltanto su quello che sta succedendo ma anche per il nostro futuro. Ne ho tratto innanzitutto che se volete costruire qualche cosa che sia migliore di quello che c'è oggi in Italia bisogna che tra di voi ci sia qualcuno che nasce leader e che sia un leader forte perché Mark Lasacce ha spiegato che non ci sarà altro modo per riuscire a rovesciare la situazione e essere in grado di parlare al popolo italiano. Poi c'è anche detto che l'approccio e l'utilizzo degli strumenti tecnologici e digitali nella politica ha cambiato tutto e sta cambiando tutto e quindi lo studio che stiamo facendo anche in questi giorni di come applicarli al meglio torna perfettamente. Ci ha detto tante altre cose la più significativa e rivoluzionaria che mi porto via con me è che dobbiamo approfondire il rapporto con Marion Marechal Le Pen e ti chiederemo magari il suo indirizzo di creare il rapporto e vedremo che cosa verrà fuori ma è stata un'ora e mezzo fantastica vi chiedo veramente di ringraziare Mark grazie grazie nell'applauso c'è anche un po' di calore in più per dimostrare ai poveri francesi che li vogliamo comunque bene nonostante tutto e nonostante il momento che stiamo vivendo mi dispiace ma abbiamo vinto il mondiale hai sciupato tutto quello che avevi guadagnato con questa fate giocare Buffon cioè evitiamo questa cosa orrenda dieci minuti di pausa dopo abbiamo un altro grande momento perché avremo Paolo Rumiz insieme a noi dieci minuti e di nuovo dentro